Buonasera e benvenuti al Libro Aperto, la nostra trasmissione che si occupa di libri, delle novità editoriali e non solo, perché in questo caso questa sera avremo due ospiti, due autori e i libri che ci presentano non sono usciti in questi mesi, ma sono entrambi divenuti prepotentemente di attualità per ragioni che poi scopriremo nel corso della puntata. Qui accanto a me c'è Max Bonelli, autore di questo libro che si chiama Anti Maidan, una storia, un racconto di quello che è successo in Ucraina in questi ultimi anni. Max Bonelli ha vissuto a lungo e anzi è in partenza anche in questi giorni per l'Ucraina e quindi ci racconterà un po' di quelli che sono stati gli sviluppi della situazione in quel paese purtroppo martoriato. Mentre in collegamento con noi c'è lo scrittore e anche storico Paolo Zanetov, autore di una serie di lavori sul brigantaggio, uno uscito qualche anno fa che abbiamo qui con noi. Intanto do il benvenuto a Paolo, Paolo Zanetov. Grazie. Benvenuto qui con noi e questo è un libro di alcuni anni fa, storia del brigantaggio politico post unitario ma so che Paolo poi sta preparando invece un nuovo libro sul tema del brigantaggio che uscirà a Natale e che sarà una strena magari per qualcuno su un argomento che da un secolo e mezzo è sempre attuale perché mai abbastanza affrontato in maniera profonda. Io partirei comunque con Max Bonelli e l'Ucraina purtroppo è tornata prepotentemente in attualità da alcuni mesi a questa parte dopo che lo era stato nel 2014 dopo i fatti di Maidan che hanno dato spunto a questo racconto che però non è un racconto politico ma è più che altro una cronistoria di una vita quotidiana in Ucraina. Sì, diciamo il racconto è più che altro un diario mio personale della mia esperienza nel Donbass e anche con persone che sono entrate nella mia vita, per cui mia moglie che è di Donetsk quindi la loro vita che è stata colpita da questi fatti di Maidan Ecco, vediamo le immagini di fatti del 2014 Esatto, qualcuno definisce rivoluzione, qualcuno definisce golpe a seconda dei punti di vista e in questo libro io descrivo proprio quei mesi, quell'anno diciamo tra fine 2013 e metà fino alla fine del 2014 dove praticamente un governo che era stato riconosciuto dalla comunità europea che era stato eletto democraticamente, la comunità europea aveva riconosciuto la sua elezione e è stato buttato giù, esaurato da una piazza assolutamente organizzata e io sono stato in questo libro il primo a descrivere che c'erano dei campi nei paesi baltici in Lituania, in Polonia in particolare dove si erano preparati questa sommossa questa manifestazione di piazza che durò praticamente da novembre 2013 fino al 19-21 febbraio 2014 quindi immaginate nell'inverno russo, perché Kiev praticamente ha lo stesso clima di Mosca delle persone che stavano in piazza ogni giorno a combattere, a dimostrare contro la polizia la quale non era armata di fucili come poi ci hanno venduto quando ci fu la strage del 19-21 febbraio che poi uscì fuori che non erano i poliziotti che avevano, diciamo Yanukovici che avevano sparato sulla folla ma bensì erano dei gruppi armati paragonalitari georgiani e baltici che da dietro le posizioni dei manifestanti spararono sia sui manifestanti sia sui poliziotti per creare il campo. Ti interrompo un attimo perché vorrei fare un pochino un passo indietro proprio sulla che cos'è l'Ucraina, perché tu anche nel libro ne parli dice una cosa molto importante e molto importante anche per quello che sta accadendo in questi mesi e in queste settimane, e cioè che non esiste una Ucraina ma è come se esistessero tre, quattro, cinque Ucraine diverse con delle caratteristiche anche molto diverse e proprio per questo difficili da mettere insieme, da mettere d'accordo Diciamo che l'Ucraina è più assimilabile a una grande Svizzera forse ancora più complicata ci sono tante Ucraine con vari cantoni, varie lingue, varie culture esatto, varie lingue, varie culture, varie minoranze varie minoranze, quindi abbiamo adesso l'Ucraina viene dominata fondamentalmente dagli Ucraini occidentali e centrali possiamo dire Ecco perché c'è un Ucraino occidentale che è L'Ucraino occidentale è fortemente antirussa è stata sotto la Russia pochissimo tempo possiamo dire dopo l'occupazione sovietica dopo il 1945 hanno sempre odiato i russi perché loro stavano sotto l'impero austro-ungarico storicamente quindi li hanno combattuti sempre nella prima guerra mondiale e parlano effettivamente ucraino loro hanno come prima lingua l'Ucraino hanno anche una religione diversa nel senso che la maggioranza è sotto la Chiesa Uniate che è una Chiesa di rito ortodosso ma che riconosce il Papa come entità suprema sono gli unici preti diciamo all'interno della Chiesa Cattolica che si possono sposare e hanno dei figli come i popi ortodossi come i popi ortodossi hanno i vantaggi dell'una e dell'altra esatto poi invece c'è questa Ucraina centrale che forse è l'Ucraina quella che viene indiscritta in Gogol l'Ucraina più caratteristica poi a proposito di Gogol voglio farti una domanda adesso vi faccio finire agricola con questi paesaggi diciamo molto interessanti con le stanizze diciamo dei cosacchi questi villaggi che derivano dai cosacchi della Zaporiggia e poi abbiamo l'Ucraina dell'est quindi il Donbass dove invece è una parte diciamo dove si parla russo dove abitata da una maggioranza di popolazione che nel 2014 erano tra gli 8 e 12 milioni di persone che parlavano russo come prima lingua e spesso non conoscerono l'Ucraino e questo nasce anche da motivazioni storiche certo perché prima del 1900 questa parte che era la grande steppa era quasi disabitata c'erano qualche villaggio sempre di cosacchi che parlavano Ucraino in quel caso ma la gran parte era disabitato nel 1900 viene scoperto anzi fine del 1800 viene scoperto grandi giacimenti di carbone e lo zar inizia un processo di industrializzazione che viene continuato sotto il comunismo questo processo di industrializzazione quindi si compone di grandi giacimenti minerali del carbone e grandi impianti industriali metallurgici questo ha fatto sì che ha attirato una tantissima popolazione da tutta la Russia anche dall'Ucraina però la lingua franca era il russo per cui al di là diciamo dell'appartenenza etnica che spesso era molto mista uno poteva avere mamma ucraina papà russo oppure nonni tedeschi perché tra le altre cose c'erano delle minoranze tedesche anche greca mi pare che ricordo greca e i villaggi grechi li riconosci perché hanno le case bianco e blu c'erano delle colonie tedesche che erano iniziate sotto Caterina Caterina di Russia che era tedesca infatti che aveva fatto venire tantissimi coloni dalla Prussia in particolare poi c'è anche una minoranza ungherese non dimentichiamolo quindi praticamente questa mescolanza adesso si parla spesso del Donbass come di filo russo in realtà non nasce da una tradizione russa ma dal fatto che poi il russo sia stato scelto come lingua franca in effetti diciamo nell'ex Unione Sovietica è tuttora la lingua franca la lingua del commercio quello che potrebbe essere l'inglese in Europa esatto una cosa di questo genere io sentirei anche Paolo Zanetov se è ancora qui con noi in collegamento e qui chiedo allo storico è corretta questa ricostruzione immagino? sì è corretta però se vogliamo andare un pochino alla nascita proprio dell'Ucraina occorrerebbe ricordare che Kiev è il primo principato russo quindi i russi i famosi russi di Kiev esatto i russi che in sostanza sono i parecchi sono i vichinghi i vichinghi quelli che noi chiamiamo vichinghi in epoche lontanissime praticamente fondarono il principato di Kiev e altri principati e altri principati adiacenti quindi la vera culla è poi quella poi naturalmente quando ci sono le invasioni dell'ordadoro tartare eccetera eccetera intanto l'espansione è andata anche verso il nord e rimane l'Ucraina rimane più soggetta alle penetrazioni appunto alle lotte tra tartari russe e altri minori polacchi e uccheresi e altri minoranti mentre la parte a nord la parte appunto il principato di Mosca rimane più salvaguardato quindi storicamente parlando poi si consolida più a nord anziché anziché in Ucraina però l'origine diciamo che l'Ucraina è un po' la culla della cultura russa e qui io mi volevo riagganciare un nome a un nome che è stato citato prima però bisogna ricordare che si chiama Ucraina vuol dire frontiera sì terra di frontiera e con tutto quello che ne consegue stavo dicendo vorrei riagganciarmi a un nome che è stato citato prima da Max Bonelli ovvero il nome di Gogol ma potremmo anche citare Bulgakov cioè la grande tradizione della letteratura visto che qui parliamo ai libri mi sembra interessante anche questo tema la grande tradizione della letteratura Ucraina è russa cioè Gogol e Bulgakov vengono considerati dei letterati russi hanno scritto in russo anche se sono nati a Kiev e in altre città dell'Ucraina ecco anche questo probabilmente ha creato una sorta di melange indistricabile che adesso in un momento in cui o si sta di qua o si sta di là diventa difficile il discorso è un po' da gestire complesso nel senso che dal punto di vista squisitamente letterario possiamo fare un paragone con Pirandello con il Verga i siciliani cioè sono autori siciliani che scrivono però in italiano e anche modificano per certi aspetti l'italiano dando delle pennellate di siciliani anche Camilleri il verbo è un autore più letture e lo stesso fa Gogol e Bulgakov con loro scrivono però in russo perché l'intelligenza di Kiev essendo comunque Kiev una città come ha detto giustamente Paolo Zanedov che è diciamo l'inizio del del principato politico che ha dato poi origine alla Russia l'intelligenza di Kiev rimane fino al 1990 fondamentalmente di lingua russa e con una diciamo forte identità culturale russa questa intelligenza dopo il 1900 dopo diciamo che si forma l'Ucraina come nazione quindi quando si separa l'Unione Sovietica in Russia Bielorussia Ucraina più altri stati asiatici subentra un'intelligenza che ha una formazione estera viene un'intelligenza che viene che è stata formata in Canada dalla diaspora ucraina dopo il 1945 di quegli ucraini che avevano preso le parti del nazismo e quindi sia in Stati Uniti che in Canada questa intelligenza viene formata sovvenzionata allevata con lo scopo che un giorno potesse essere utile come poi lo è stato diciamo in effetti no Al-Senuk per esempio si era formato negli Stati Uniti quindi è così come lui tanti altri avevano tutti una formazione universitaria statunitense quindi questa intelligenza ha fatto sì che fosse un'intelligenza etero diretta come in effetti lo è e continuerà a fare sempre gli interessi di uno Stato che gli ha dato tanto stai dicendo che comunque c'è una sorta di partiacque che è il 1990 cioè la dissoluzione dell'Unione Sovietica e qui anche da un punto di vista culturale cioè se fino ad allora abbiamo citato Gogola abbiamo citato Bulgakov anche gli intellettuali ucraini erano comunque quelli che adesso sarebbero definiti filorussi e comunque di lingua russa e poi è cambiato qualcosa e sono arrivati invece gli intellettuali gli stati di Bulgakov vengono non a caso abbattute a Kiev in questi giorni perché perché Bulgakov se vogliamo fare esempio di Bulgakov quando ha scritto la Guardia Bianca questo famoso libro per chi l'ha letto si ricorderà che non parla di scontri tra Guardia Bianca e Rossi ma parla di scontri tra Guardia Bianca e l'esercito ucraino faccio un piccolo sunto per i nostri telespettatori che non hanno letto Bulgakov stiamo parlando di un romanzo che parla di ciò che è successo in Russia subito dopo nell'unione tovietica dopo il 1918 cioè dopo la rivoluzione d'ottobre c'è stata una sorta di guerra civile possiamo chiamare così una guerra civile molto complessa a 3-4 eserciti in Ucraina sì anche con interventi stranieri in quel caso la stessa Italia ha mandato dei contigenti militari tutto l'occidente esatto tutto l'occidente lo mandò ed erano in aiuto le famose guardie bianche mentre le guardie rosse ovviamente erano ma non c'erano soltanto le guardie bianche e le guardie rosse c'era anche un esercito nazionale ucraino di liberazione con capo il quale combatteva in primis questa intelligenza diciamo ucraina di nascita ma culturalmente russa infatti queste guardie bianche odiano fortissimamente gli ucraini cioè il loro popolo cioè questa dicotomia tra l'intelligenza di Kiev e il loro popolo quindi questo scontro e Bulgakov prende diciamo le parti le parti perché lui si sente russi diciamo culturalmente e la cosa interessante è che tutta la censura che subisce questo libro da parte dei bolshevici da parte del comunismo è tutta dovuta alle frasi contro la lingua ucraina che usa Bulgago cioè non ci sono censure dovute a diciamo a frasi che sono contro il comunismo o contro i rossi diciamo ma sono frasi censurate perché lui dinigra la lingua ucraina c'era un patto tra Max aiuto fermarti soltanto un istante perché abbiamo un piccolo break pubblicitario mi sembra molto interessante quello che stiamo dicendo e stiamo raccontando attraverso questo libro di Max Bonelli una un'Ucraina forse poco conosciuta e un'Ucraina che ha poi una storia molto più ricca e variegata di quello che purtroppo riusciamo a vedere ultimamente su ITG ma qualche secondo di pubblicità di pubblicità di pubblicità di pubblicità di pubblicità